buonasera buonasera a tutti buon anno ben ritrovati al nostro consueto appuntamento stasera siamo in compagnia di sabrina sant'ambrogio titolare di seven days tour operator ciao sabrina grazie di essere con noi in questo inizio anno ciao patrizia con lei scopriremo i caraibi in particolare le cantine francesi e nello specifico guadalimpa e martinica prima di cominciare questa nostra visita qualche informazione che ci riguarda sul nostro sito foltur.com trovate la programmazione dei nostri viaggi con accompagnatori di in partenza da alba è in continuo aggiornamento perché viste le nostre le nostre cose dobbiamo eh tenerci molto aggiornati ve ne segnaliamo alcuni a cominciare dal tremino del bernina a carnevale l'espo dubai il tour del lazio umbre toscana a pasqua e il venetro tra grappa villa radicchio sul ponte del 25 aprile in questa pagina trovate i nostri contatti mail telefono e tutti i nostri canali social oltre all'indirizzo del nostro del nostro sito oppure meglio ancora vi aspettiamo venite a trovarci direttamente in ufficio eh potete trovare tutte le nostre registrazioni passate direttamente sul nostro canale youtube foltur tv se qualcuno ha delle domande può scrivere in chat su zoom e la nuvola in che trovate in basso e cercheremo di fare il possibile per rispondere anzi aspettiamo vostre domande per riuscire per riuscire a a spiegarvi a questo punto è tutto pronto prepariamo le valigie le abbiamo pronte sistemate cerchiamo la roba controlliamo il passaporto lascio ora a Sabrina la parola lei ci porterà in viaggio su queste isole che sono una propagine francese dall'altra parte del mondo dove dominano i colori forti al ritmo dei balli e trascinante di nuovo ciao Sabrina benvenuta ad Alba in questa in questa cosa qui direi che possiamo cominciare facendo vedere ai nostri amici eh un video su questa su questa destinazione ecco qua pronti partiamo partire dans les îles de guadeloupe explorare une île puis en découvrir d'autres s'aventurare s'aventurare se dépasser e grandire un po' vivere di nuovelle esperienze s'attacher e poi revenir car di un'île all'autre d'un voyage all'autre c'è tutta una vie che l'on construì découvrir un archipel unico les îles de guadeloupe il y a tant d'île en elle eccoci qua abbiamo avuto una panoramica della destinazione e ora a te la parola che cosa raccontiamo ai nostri amici di questa stupenda destinazione? allora come hanno potuto vedere già iniziamo a parlare di questa di quest'isola che non non è propriamente un'isola unica ma è un arcipelago composto veramente da oltre dalle due isole principali da questo miriede di piccoli isolotti che veramente uno più bello dell'altro scusate una cosa Sabrina vuoi prendere vuoi passare la tua presentazione? allora eccoci qua ecco per farvi vedere un attimino di cosa stiamo parlando ci troviamo praticamente a circa 8 sì 8 mila chilometri dall'Europa ma è un dipartimento francese e andare in Guadalupe è come andare in Corsica l'unica cosa che ci ritroviamo direttamente nel Mar dei Caraibi fa parte delle non è proprio non è proprio lo stesso mare non è lo stesso mare qualche oretta di più di volo qualche oretta in più di volo però ci si va con la carta d'identità tranquillamente via Parigi la lingua principale è il francese la valuta è l'euro quindi sia proprio tutti gli effetti anche a livello di sanità eccetera sia in Francia tutti gli effetti questo è praticamente se vogliamo il plus che fa delle due isole comunque un tipo di Caraibi adatto a qualsiasi tipo di cliente che di persona che ha voglia di girare ha voglia di portarci la famiglia anche bambini piccoli diciamo che sono veramente isole accessibili a chiunque allora come vi dicevo è un arcipelago è un arcipelago composto da Baster che è la parte praticamente più naturalistica è la parte del vulcano e la più verde Grand Terre è la parte più turistica invece dove la maggioranza delle strutture è presente perché ha comunque spiagge bianche e più diciamo barriera corallina molto più accessibilità Poi abbiamo tutte le isolette praticamente che sono le Sainte al sud di Basterre Marie Galante che praticamente rimane alla loro destra e poi non so se riuscite a vederla la Desirade che rimane praticamente tutta a destra di fronte a Saint-Francois Dunque cosa posso dirvi cominciamo a parlare di Basterre Basterre appunto dicevo che è l'isola più naturalistica ha un parco naturale eccezionale alle pendici del vulcano che è stato praticamente elencato nelle biosfere mondiali Il vulcano è un vulcano attivo bellissimo non sempre praticabile perché è sempre circondato da comunque da nuvole ma ci sono delle cascate delle camminate veramente eccezionali La sua altezza è circa 1500 metri in più nel sempre a Basterre si ritrovano oltre appunto queste cascate questa naturalità spiagge di sabbia nera perché sono spiagge vulcaniche e la riserva naturale di Cousteau dove si possono fare delle immersioni spettacolari oltre anche al giardino botanico che è veramente una cosa meravigliosa Questi sono un po' ecco quella è la cima del vulcano Le cascate, la vegetazione e poi passiamo a Grand Terre Grand Terre è praticamente l'isola delle spiagge, spiagge di sabbia bianchissima, palme, mare cristallino L'interno è presente la maggioranza delle coltivazioni di canna da zucchero che è una delle principali attività oltre al turismo dell'isola Da dove oltretutto ne ricavano un rum strepitoso Sì, tutte queste isole caraibi che hanno questa più o meno una parte, questa storia di questi alcolici, questo rum molto buono Guarda, e ti posso dire che l'agricolo che loro fanno è secondo me uno dei migliori in assoluto Sia in Guadalupe che in Martinica, oltretutto c'è proprio la possibilità di visitare le distillerie, di vedere proprio la lavorazione E non solo perché ti fanno anche una degustazione notevole, non lesinano mai nella degustazione Basta che ti diano anche qualcosa da mangiare perché... E lo sai E no poi torni basculante, via No, 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 c'è sempre, ci sono sempre, ci sono i tono d'amour che sono dolci per chi ama i dolci Oppure gli acra che sono delle frittelline a base di pesce e spezie che sono una cosa favolosa Veramente molto buone Bene Quella che vedete sotto è la Desirade Che è l'isola di fronte che dicevo a Saint-François Dunque dalla parte, se vogliamo, occidentale della Grande Terre È un'altra delle isole, è molto bella Si raggiunge in un quarto d'ora di battello da Saint-François E si gira in bicicletta, è veramente un'isola carinissima Questo invece è l'Essent L'Essent praticamente sono due isolotti di cui praticamente di fronte a Baster Di cui uno ha la caratteristica che ha un piccolo pan di zucchero che ricorda molto Rio Oltre ad avere poi il forte napoleonico Che difendeva, diciamo, l'entrata all'arcipelago nei tempi dei corsani Queste si fanno delle escursioni bellissime Perché oltre a mangiare molto bene, oltretutto sull'isola Hanno delle spiagge molto, molto belle e naturali Fauna, hanno iguane un po' dappertutto, capretti E poi la particolarità degli abitanti che sono una popolazione che è stata mescolata Un po' come a Saint-Bartelemy con i Brettoni Per cui la popolazione è color caffè latte Con gli occhi azzurri e i capelli biondi Sì, inconsueto gli occhi azzurri È un po' inconsueto, soprattutto sulla popolazione creola Queste altre appunto, ecco il piccolo pan di zucchero Ah, questo qua, molto, molto, molto bello Quindi ci sono molte attività di mare da fare Esatto, sì, sì, poi di mare Cioè si può fare qualsiasi cosa Diciamo dallo snorkeling alle immersioni Poi windsurf, kayak, altre cose di mare Che è oltretutto la parte a grand'air de la moule Verso la parte occidentale andando verso il port de l'enfer Che è la parte dove ci sono delle falese incredibili Poche spiagge, ma falese Direttamente dove il mare praticamente dei Caraibi Si scontra con l'Atlantico Quindi proprio spettacolare Sembra quasi Ci sono alcuni punti che ricordano molto le falese di Dover Proprio bianche Che discendono E da quella parte molti vanno apposta per fare kitesurf Perché è una parte comunque Lì ci sarà sicuramente l'incontro delle correnti Quindi vento è sufficiente Esatto, e quindi è veramente Una parte che c'è Dedicata soprattutto agli amanti del windsurf e del kitesurf Magui Galant è praticamente l'isolotto di fronte a Pointe-a-Pietro Un po' più grande delle altre di Lescento e piuttosto che della Desirad È un po' come tornare indietro di 30 anni come era un Guadalupe Ci sono ancora Lo hanno soprattutto coltivazione di canna da zucchero E gli agricoltori vanno ancora in giro con i carretti trainati dai cavalli Dunque molto caratteristico e molto indietro È molto ancora molto naturale, molto caraibica Poco francesizzata Ecco, se vogliamo Molto meno europea Paesaggi bellissimi E le spiagge più belle in assoluto si trovano a Marigalonte Io consiglio sempre o l'escursione in giornata Ma anche fare una o due notti Perché è veramente bella da esplorare Molto molto bella E questa è la Desirad, quella che abbiamo visto in piccolo prima Che è quella di fronte, quella piccola che vedete dove passa la, diciamo, il canale E la Petite Terre, che comunque parte della Desirad, che è un po' più grande Ma queste, a livello di strutture alberghiere No, la Desirad non ha strutture No, la Desirad non ha strutture Più o meno dappertutto A livello di strutture alberghiere possiamo pernottare su tutte queste isole dell'arcipelago Oppure conviene stare sulla principale e poi dopo muoversi come escursione giornaliere? Allora, si possono fare entrambe le cose Tranne la Desirad che non ha strutture La Desirad è comunque patrimonio dell'UNESCO E non hanno costruito Quindi non ha assolutamente strutture Queste si fanno solo in giornata Invece, per quanto riguarda l'Essente e Marigalonte Ci sono delle strutture Sono proprio a livello di guest house Sono proprio strutture piccole E molto carine Solitamente gestite proprio dalle famiglie E quello che soprattutto Quello che si chiama in Francia Le chambre dot Quindi proprio Per notare in famiglia Sono proprio pensioni Però è molto carino Se uno non cerca il lusso Eccetera Sono accoglienti Sono belle E l'unica cosa Che sono su isole piccole Io non consiglio mai di fare Praticamente le sette notti O le quattro Cioè Due o tre notti Sono più che sufficienti Se no Se uno invece Non ha voglia Di rifare i bagagli Eccetera E girare Tranquillamente Le può fare in giornata Perché per esempio Da Puentapit In un'ora e un quarto Si è a Le Sente E in 45 minuti Si è a Marie Galant Quindi con gli aliscafi Sì quindi non è Non è scomodo Non sono scomodo No assolutamente È per godersi Un paesaggio differente Esatto E Allora Ah questo qua E Dicevamo che per viaggiare Per queste destinazioni È sufficiente La carta di identità Esatto Purché il transito Sia In Francia E Poi mettiamola così Anche perché Mi sembra di ricordare Che tutti I collegamenti In realtà Sono tutti Via Parigi Sono tutti Via Parigi Allora Dunque Dall'Europa Sono collegate Esclusivamente Via Parigi Dall'Europa Ovvio che Se uno Ha l'idea Di fare Che ne so Ci capita Spesso Che qualcuno Fa New York O Miami Fa gli Stati Uniti Sono collegate Anche dagli Stati Uniti Sono collegate Anche dal Canada Però in questo caso Ovviamente Si parte col passaporto Quindi Possono essere Tranquillamente Fatte come Un viaggio di nozze Dove si voglia fare Una costa est Del nord Del nord America Abbinata A un soggiorno mare Esatto Abbastanza Comodo Sì Sì Perché i collegamenti Sono Sono quasi giornalieri Da New York Da Miami Quindi È fattibile Mi sembra Che ci siano Anche dei collegamenti Da Montreal Se uno vuol fare Non mi ricordo Se c'è anche Toronto Tanto andranno Ormai Andranno tutti Ricontrollati Perché con questi Ultimi due anni Con questi ultimi due anni È praticamente Andato tutto a ramengo Quindi i collegamenti Non hanno ancora Ripristinato Il tempo erano giornalieri Adesso bisogna vedere Un giorno sì Un giorno no Insomma Difende come Si stanno comunque Rimettendo in careggiata Diciamo che sono Beh Diciamo che Allora dall'Europa Ci sono Per ogni isola Tre voli al giorno Da Parigi Dall'Air France Ma ci sono due voli Da Parigi Dall'Air Caraïbe E ci sono due voli Al giorno Di Corsair Quindi Le isole E questo Non è mai Non è mai cambiato Dall'inizio Della pandemia Perché Comunque Sono dipartimenti Francesi Un po' come noi Non abbiamo abbandonato Le nostre isole I francesi Non hanno abbandonato Le loro E quindi I collegamenti Erano assolutamente Protetti Quindi Non sono Non hanno mai Cancellato voli E sono Garantiti Proprio i collegamenti Tra le isole E questo Per quanto riguarda Parigi E ovviamente Partendo dall'Europa In quanto europei Noi appunto Si viaggia solo Con la carta d'identità Quello che c'è da dire In questo momento Le isole Chiedono Il tampone Molecolare O rapido Perché Accettano anche L'antigenico Vogliono però Il Green Pass Cioè Il ciclo vaccinale Completato Sì Se non si ha Il ciclo vaccinale Completato Bisogna Praticamente Avere un motivo Essenziale E poi fare La quarantena Quindi Accettano solo Con il ciclo vaccinale Completo Quindi All'americana Non i guariti Esatto Il ciclo vaccinale Completo O i guariti Cioè Basta che abbiano Un Green Pass Europeo Certificato E Possono Andare tranquillamente Con Un test rapido Praticamente 24 ore Prima della partenza Ok Al ritorno Ovviamente Noi L'abbiamo messo Dal 15 dicembre C'è il tampone Rapido Per rientrare In Italia Un po' Di moduli Tutte queste cose Qui Sai Cose così Si fanno Da loro Come da noi In tutte le farmacie Anche senza Prenotazione Quindi E anche in quello È proprio Europa E il costo È lo stesso Che quello nostro Cioè Va dai 12 E 15 euro Il tampone Quindi Una cosa Quello che fa strano È appunto Quello come dicevamo Anche prima La distanza Nel senso Che sono praticamente Come una corsica Oppure me ne vado A Biarritz Semplicemente Ho da fare Nove ore di volo E mi trovo Non dico Dall'altra parte Del mondo Ma in una In una location Completamente Completamente Diverta Tenendo presente Che poi Si è Neanche Un'ora di volo D'Antigua Ma non ci si può andare Perché Antigua Ancora Non è Non è accessibile Diciamo che Le destinazioni Che attualmente Sono ancora accessibili Non sono poi Tantissime Perché Al di là Di questi Corridoi turistici Oppure Questi dipartimenti Che È concesso Usufruire Di cui è concesso Usufruire Le destinazioni Aperte Al Al turismo Libero Non sono Non sono Non sono No Purtroppo ancora no Questo Questo Penalizza Determinati Territori Penalizza Determinati Viaggiatori Penalizza Anche loro Perché Poi hanno Per esempio Quello che è successo Già quest'estate E si sta ripetendo Adesso Dopo Diciamo L'affluenza Del Natale Capodanno Che ha visto Comunque Un turismo Quasi di massa Sulle due isole Ha portato Praticamente Ma come sta succedendo Da qua Da noi in Europa A un aumento Dei positivi Soprattutto per la variante Omicron Le isole Durante Anche tutto Il periodo Della pandemia Non hanno avuto Problemi di terapia intensive Perché sono state Comunque molto Protette Però La positività C'è La positività È stata portata Anche dal turismo E quindi Hanno rimesso Adesso dal 6 gennaio Per tre settimane Coprifuoco Dalle 20 Alle 5 del mattino Per farli stare Un attimo Per carità Fa buio Alle 18 Dunque Sì Non puoi andare Praticamente Magari A parserata A parte Che parserata Essendo Europa Non la fai Perché le discoteche Sono chiuse Come da noi Esatto Gli alberghi All'interno All'interno degli alberghi I ristoranti Funzionano Oltre il coprifuoco Perché comunque Funziona Tutto quello È come se fosse Un piccolo Dominio L'albergo Tutto quello Che succede Nell'albergo Non è soggetto Al coprifuoco Ovviamente All'esterno Al momento Dopo le 20 Non puoi circolare Ecco Inizi la tua giornata Alle 7 del mattino Alle 8 del mattino Poi puoi anche rientrare Puoi rientrare E rilassarti In albergo In piscina Al ristorante Insomma È comunque Diciamo Fattibile Infatti abbiamo Dei clienti Anche in questo periodo In viaggio di nozze Clienti che sono partiti La settimana scorsa E che sono partiti Questa settimana E non hanno riscontrato Cioè non se ne sono Neanche accotti Alla fine Che ci fosse Questo coprifuoco Ah sì Certo Se fai una visita Di giornaliera Poi a sera rientri Ti fai una doccia Mangi in albergo E la giornata È andata Esatto Scusa una cosa A Parigi C'è sempre il cambio D'aeroporto Oppure adesso C'è un collegamento Anche Siamo Con la pandemia Siamo diventati Dei fortunelli Perché a Forza Per incentivare Gli europei A comunque A viaggiare Comunque Il traffico È aumentato Per loro Essendo poche Destinazioni Aperte al turismo Ha messo Un collegamento Al giorno Da Charles de Gaulle Sia per Guadalupe Che per Martinica Per cui L'unica cosa Che può succedere È che a volte La tariffa Del volo È un Pelino Più alta Che quella Dell'Orly Perché ovviamente È il volo Più gettonato Quello di De Gaulle Perché Non c'è cambio D'aeroporto Però c'è anche La possibilità Di partire Se uno ha voglia Da Linate Via Orly Con Alitalia Air Caraib E quello C'è sempre stato Dunque Non aveva Cambio aeroporto E diciamo Che secondo me Anche lì Può essere Oltretutto No Ita ha ripristinato Gli accordi Esatto No no L'ha ripristinato I volanissimi Oltretutto Ita ha ripristinato Anche gli accordi Che da qualche anno Non c'erano più Con Air France Dunque si può anche Adesso Noi a Torino Per esempio Da Torino Caselle Abbiamo solo Air France Non abbiamo Ita che parte su Parigi Ma da Milano Si può Scegliere C'è più scelta C'è più scelta Abbiamo già Diciamo Diversificati i voli E per esempio Air Caraib È una compagnia È la compagnia Di bandiera Di Guadalupe Martinica È proprio Praticamente La compagnia Proprio locale E si vola Decisamente Meglio Meglio Senti una cosa Qui Il periodo migliore Per andare Ai Caraibi Alle Antille francesi Allora Tenendo presente Che parliamo Di piccole Antille Non grandi Piccole Antille Vuol dire Che sono Quella parte Dei Caraibi Che è Verso il Venezuela Cioè tutta la parte Praticamente Verso il Sud America Quindi Non soggetta A grandi Cambiamenti Come le grandi Antille Come può essere Cuba Piuttosto che Bahamas Eccetera Andando in su Ed è una costante Tutto l'anno Tra i 26 28 gradi C'è un periodo Secco E un periodo Umido Ma umido Non perché Piova di più Perché Comunque È una questione Di pressione Che dal novembre Fino a maggio Abbiamo il periodo Secco Dove praticamente Le temperature Sono Sono più Più Uniti Vogliamo 26 Non c'è umidità Si sta meglio Però è anche Il periodo Che praticamente La vegetazione Verde Ma non fiorita Periodo Secondo me Bellissimo Anche va da maggio A ottobre Che è il periodo Umido Perché salgono Praticamente Questa pressione Con gli alisei Porta dell'umidità Ma c'è anche Tutta una vegetazione Che fiorisce Eccetera Fantastica Cioè veramente Si vedono Delle cose Straordinarie Piogge Sono sporadiche Durate tutto l'anno Il periodo Se vogliamo Più Meno indicato Più pericoloso Tra virgolette Che poi Loro vengono toccate Veramente molto poco È il periodo Che va da fine agosto A fine settembre Che è il periodo Degli uragani E dei cicloni Che si formano Praticamente Nell'area Del golfo Del messico E comunque A volte Hanno anche Toccato Le piccole antille Molto meno Che Diciamo La costa Americana E le grandi antille Quindi Diciamo Che per Per qualsiasi Diciamo Periodo Dell'anno Io non Ho grossi Sconsigli Da dare Se non Forse In quel periodo Ecco Il costo Della vita Su queste isole Allora Il costo Della vita È praticamente Pari al nostro Perché comunque Se è in Francia Tutti gli effetti Ovviamente Si va Praticamente Se uno decide Di andare In un residence Affittare una casa E va a fare la spesa Spende esattamente Come qua Cioè Nel senso Che non ha Se va A cena fuori È come essere In Costa Azzurra Hanno Comunque C'è di bello Che c'è una varietà Diciamo Notevole Di strutture Ristorantini Piuttosto che Diciamo Snack bar Eccetera Sulle spiagge Cioè Si può mangiare Con 12-15 euro E poi si va Nel ristorante Magari Steak house Eccetera Che fanno Anche gli angus Però vengono Tutti importati E si spende Anche 60-70 euro Però questo Praticamente È un po' Come succede Da noi Quindi Sostanzialmente Al di là Del fatto Del problema Oggi Che abbiamo Un attimino Di problema Lockdown Quindi dobbiamo Fare attenzione Agli orari È abbastanza Normale Uno può Tranquillamente Prendere una soluzione Con per notamente Prima colazione E godersi I locali I locali Della zona Io è quello Che consiglio Sempre Perché È la È la cosa Più bella Proprio È viverla Cioè Vivere Le isole Cioè Scoprire Gli abitanti Perché sono Veramente Accoglienti E poi Insegnano un po' A tutti Praticamente A degustare Le loro specialità Che sono Un misto Se vogliamo Di Caraibico Speziato E francese Quindi Non 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 va Al di fuori Troppo Dei gusti Se vogliamo Dell'italiano Che Che comunque Bene o male È abbastanza Abituato Anche ad avere Confronto Con la Francia Quindi Comunque È già Un Poi Ovviamente La grossa La grossa Diciamo Cucina Loro E soprattutto Il pesce Pesce alla griglia Pollo alla griglia Pesce Però soprattutto Appunto Pesce Perché comunque È la Diciamo La prima cosa Che loro Hanno E propongono Soprattutto Ecco Se uno va A passare La giornata In spiaggia A una certa Ora Praticamente Sente Dei profumi Incredibili Perché aprono Questi baracchetti Sulla spiaggia Mettono I barbecue E cominciano A grigliare Di tutto E uno dice Ma io sulla dieta Mangio solo un po' Di frutta Poi alla fine Che non mangia Solo un po' No non è vero Non è vero Perché poi alla fine Si fa tirare Da questi odori Incredibili E quindi Chiaramente Gli italiani Riescono A mangiare Visto che siamo Molto difficiuse Critichiamo sempre Un po' i francesi Perché non siamo Tanto d'accordo Ma la cucina creola Mi sembra di aver capito Che è un'esperienza Piuttosto Piuttosto unica Sì È speziata Ma non così Forte Cioè Non è fastidiosa Non ha delle Rilevanze Come può essere Lo speziato indiano Ecco È molto più Delicata E in più Non è piccante Quindi Comunque Non Non hai Diciamo La paura Di assaggiare Di assaggiare Una cosa Che dici Poi ti si infiamma La bocca E non Poi comunque Sono Sono molto Molto carini Spiegano tutto Hanno Hanno questa Hanno anche Queste Questi vegetali Un po' A noi sconosciuti A volte Che loro Spiegano Che sono Molto buoni Io consiglio Sempre a tutti Di assaggiare Perché per esempio Le cristofine Sono delle specie Di zucchine Locali Buonissime Che fanno Dei gratè Con queste cristofine O le pure Le fanno ripiene E veramente Delle cose Veramente Gustose Devo dire Bisogna Bisogna provarle Non è niente Di strano Niente che uno Non possa Anzi tutto Molto Molto genuino Molto naturale Vogliamo vedere Qualcosa anche di Martinica Perché io ti ho Fermato Facendoti delle domande Ti ho fermato Sulla tua presentazione Che poi Riguardano Bene o male Entrambe le isole Nonostante siano A livello Isola proprio Sono abbastanza Dissime Sono abbastanza Diverse La Guadalupa È molto Caraibica Ha vari aspetti Molto folklore Ancora È ancora un po' Indietro Se vogliamo Da quell'atelier Molto più Più selvaggia Se vogliamo Veramente più Caraibica È molto più Invece Martinica Siamo praticamente In un'isola unica Non ha archipelaghi Rimane praticamente A sud Si trova Santa Lussia E però Per fare escursione Da Santa Lussia Ci vuole il passaporto A parte che in questo momento Non si va neanche a Santa Lussia Non si va neanche a Guadalupa Però Diciamo che fra qualche tempo Andremo a Santa Lussia Quindi Ci si deve portare Il passaporto dietro È È un'isola Che Praticamente Ricorda molto Buster di Guadalupa Perché è un'isola Interamente vulcanica Cioè nel senso Che È un'isola unica Alla montagna Pele Che è praticamente Il suo vulcano A nord dell'isola E Che è anche lui Tutto l'attivo Infatti Con la parentesi storica Un tè Adesso tutti sanno Che Ford de France È la capitale Della Martinica Cioè È il capoluogo Della Martinica Mentre fino al 1902 Era Saint-Pierre Al nord dell'isola Molto carina Dove ancora oggi Saint-Pierre È stata ricostruita C'è anche il museo Ma è stata completamente Devastata Dall'ultima eruzione Della monta del Pelè Quindi hanno deciso A quel punto lì Visto che c'erano sempre Dei Ogni tanto Brontolava Hanno deciso Di spostare Il capoluogo Su Ford de France Un posto più sicuro Esatto E lasciare Saint-Pierre Come punto turistico Per la storia E Cosa dire Beh Diciamo che Appunto Allora Solitamente Forse prima non l'abbiamo visto Solitamente Al di là Di questo periodo Non è richiesto ovviamente Nessun vaccino Oltre ad andare solo Con la carta di identità Fuso orario Abbiamo In questo momento Cinque ore Durante l'ora solare Abbiamo cinque ore Di differenza Dunque Laggiù Sono cinque ore In meno Mentre In ora legale Ne abbiamo sei Dicevamo Dicevamo Che comunque Sono tutte e due Destinazioni Molto adatte Sia ai viaggi di nozze Abbinabile anche Ad altre Ad altre stop Se vogliamo Che è una clientela Giovane Perché c'è la possibilità Di fare Anche attività Sportive All'aria aperta Sportive Si prestano moltissimo Per esempio Ai trekking Ai giri Chiama a fare trekking Sia Martinica Che Guadalupe Si prestano veramente A dei percorsi Dal Diciamo Dal Dilettante Dilettante Artistico Fino a percorsi Diciamo Più Diciamo Più Professionali Cioè Gente abituata A fare proprio Un certo tipo Di trekking Comunque ci sono Anche delle guide Se uno Non ha troppa Dimestichezza Che porta in giro Cioè abbiamo La possibilità Di farlo Anche con guide Professionali C'è la possibilità Di fare Delle escursioni A cavallo Per esempio Invece In Martinica C'è Anche Delle Tour In bici Delle Delle spiagge Del sud Dell'isola Che costeggia Praticamente Tutto il litorale Con delle guide Che spiegano Passano Praticamente In varie località Praticamente Da Da visitare Si può fare Della Iole Che è la La tipica Imbarcazione Martinichese E ogni anno C'è una manifestazione Fanno una regata Nella baia di Forte France Della Iole Che si tiene Solitamente Tra ottobre E dicembre Quello che vedete Lì in mezzo È un Chi si crie E È Come un colibri E adora Praticamente Oltre ai fiori Andare Sui tavoli Dei Dei clienti Che fanno La prima colazione E rubare Lo zucchero E allora Lo chiamano Si crie Deve essere bellissimo Trovarselo Sul tavolo Alla prima colazione Io lo trovo Fantastico Perché sono Piccolissimi Sono piccolissimi E non danno Cioè Non sono Proprio così Invadenti Però Ovviamente Non tutti apprezzano Ognuno No bisogna Bisogna Pensare Che sono Sono isole Sia in mezzo Alla Natura Alla vegetazione Non ci sono Barriere Cioè Gli abitanti Locali Non mettono Barriere Ai Diciamo Alla natura Quindi Uno può Passeggiare Per esempio Tra appunto Facendo il litorale Per esempio In Martinica O passeggiando Facendo il trekking O andando in bici Può ritrovarsi In mezzo Un'iguana Cioè Sono Sono cose Che capitano Tenendo Però presente Che tutta la fauna Presente Su entrambe Le isole Non è assolutamente Pericolosa Cioè Non ci sono Perché non sono Mai stati importati Sulle isole Non esiste Nessun tipo Di serpente Sulle due isole Quindi Non abbiamo La cosa Più fastidiosa Sono le Zanzare Cioè Mosquito Questa è La cosa Più fastidiosa Soprattutto Nel periodo Umido Perché aumentano E quindi Si ritrova Quello che Consigliamo Sempre Soprattutto Alle persone Che vanno Da maggio A ottobre Di portarsi Una bella scorta Di autanni O comunque Di repellenti Perché Il mosquito Attaccano Notevolmente Sono Sono aggressivi Sono aggressivi Come le nostre Zanzare Come le nostre Noi abbiamo Le zanzare Tigra In pieno giorno Di casa In pieno giorno Mi era mai capitato A me In pieno giorno La zanzare Tigra Vabbè Queste sono alcune Delle spiagge Che si possono trovare In Martinica Quella In mezzo E la E le saline Che è la spiaggia Più bella Della Martinica Dove oltretutto Al fondo Di questa Spiaggia Sorge Il med Le boucaniere Mentre tutto Il resto È comunque Spiaggia libera È una spiaggia naturale Anche perché Tutte le spiagge In Guadalupe E Martinica Naturali Non troverete Strutture Costruite Cioè Non ci sono Alberghi Costruiti Sulle spiagge Naturali Perché sono Di De Magno Francese E loro bloccano Le uniche Due strutture Che si avvicinano A questo tipo Di spiaggia Sono i due med Quello di Guadalupe E quello di Martinica Però Attenzione Non sono Sono lì Sulle spiagge Naturali Ma le spiagge Non sono private Sono attrezzate Per loro Ma la La gente Ci può Cioè La gente esterna Ci va E ci viene Tutto il tempo Come vuole Ma le spiagge Sono attrezzate Di queste due strutture Sì 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 Loro ti mettono Sì Sì Poi Sono attrezzate Ma anche Altri alberghi Sono sulla Sulla spiaggia Sono attrezzati Però Non sono private Esclusive Non sono esclusive Non sono esclusive E le più belle Oltretutto Sono veramente Al di fuori Delle strutture Come vedi Non c'è assolutamente Costruito nulla lì Proprio la spiaggia E basta E quasi tutte le spiagge Che avete visto Non ci sono strutture Diciamo Che si avvicinano O che mettono Praticamente Adibiscono Una parte Alla spiaggia Attrezzata Ma comunque Una minima parte Perché il resto Deve essere lasciato libero Benissimo Quindi sostanzialmente Qua possiamo Ah qui hai La informazione Sì Questo è più o meno La sorta di quello che Di quello che dicevamo Con i voli a France In partenza Dall'Italia Come andare E ritornare Era un piccolo Promemoria Questo è molto Più tecnico E poi appunto I voli Caraib E Corsair Da orvi Adesso sono combinabili Il room Bisogna provarlo Qua Decisamente Assolutamente Bisogna Assolutamente Non è una Non è una cosa Che si possa fare A questo punto A questo punto Noi dopo aver parlato Un po' più Dell'una e dell'altra E avervi fatto vedere Un video di Guadalupa Non possiamo fare altro Che chiudere la presentazione Con un video Che invece parli Di Martirica Perché se no Faremo Faremo del torto No? Giusto Sabrina? Eh sì Quindi adesso Passiamo Un video Di Martirica Per farvi vedere Anche La spettacolarità Di questa Di questa Isola Ecco Questa è San Pier Allora Allora La spettacola Che cosa è Chia Allora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.